Ha preso il via in Abruzzo, tranne che a Pescara, che sarà avviata domani, visto la festa patronale di oggi, la campagna di somministrazione dei vaccini bivalenti contro il Covid e quella contro il virus dell'influenza. Come più volte specificato nella stessa seduta, si potrà ricevere la doppia somministrazione. I nuovi vaccini bivalenti, come seconda dosi di richiamo, è raccomandata prioritariamente agli over 60 e a tutte le persone dai 12 anni in su, con elevata fragilità per tutti gli operatori sanitari, gli ospiti, gli operatori delle residenze sanitarie assistenziali e per tutte le donne in gravidanza. Mentre la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata alle persone con più di 60 anni e categorie a rischio. Il vaccino anti-influenzale è molto importante, lo diciamo da tanti anni, soprattutto per certe categorie, anche se lo possono fare tutte le persone, indipendentemente dall'età. Ma la raccomandazione forte è verso certe categorie. Il vaccino anti-covid, abbiamo visto in questi mesi, ha funzionato tantissimo contro la malattia grave, ha evitato ospedalizzazioni e la malattia grave. Quindi voglio dire, più raccomandazioni di questa non può esserci. Continuiamo sempre a ribadire che la scelta, ora come ora, spetta l'utente, quindi noi facciamo il vaccino che l'utente ci chiede. L'obiettivo della campagna è quello di dare una netta accelerazione in vista dell'inverno al fine di contenere il più possibile le ospedalizzazioni. La richiesta giorno dopo giorno aumenta, però per il momento non serve la prenotazione, accesso libero. Il lunedì e il mercoledì, sempre all'Ap di Teramo, facciamo l'accettazione per i profughi, dove la protezione civile pensa all'aloggio e noi pensiamo alla parte sanitaria che significa vaccinazione anti-covid, anti-influenzale in questo caso, più il tampone ai casi che serve. Ma è importante anche specificare la differenza tra ciclo primario e dosi booster. Il ciclo primario si fa sempre con il vaccino originale, quindi non con il nuovo vaccino, permettetemi il termine, meglio il vaccino bivalente. Una volta che abbiamo fatto il ciclo primario, devono passare 120 giorni per fare la prima dose booster e da questa 120 giorni per fare la seconda dose booster. Lo stesso tempo deve passare anche per chi ha avuto la malattia covid. Infine il doppio vaccino sarà possibile effettuarlo dietro prenotazione anche nelle oltre 200 farmacie ambruzzesi che hanno aderito alla campagna vaccinale anti-covid.